Buongiorno, siamo con Aldo Punzo, Marketing Manager di Bettini. Allora, che cosa presentate qui a CCTV e IP Security Forum? Buongiorno, questa è un'occasione particolare per la nostra società, proprio perché stiamo presentando soluzioni innovative del mondo dell'IP, della videosorveglianza, visto che la nostra società è leader in questo settore. La tecnologia sta facendo passi da gigante, ovviamente le tecnologie innovative della videosorveglianza riescono e riusciranno sempre di più a risolvere problemi reali dell'utenza, quindi con applicazioni sempre più sofisticate che vanno dalla trasmissione dei segnali su reti dati, sull'analisi video intelligente e su particolari abbinamenti che con queste tecnologie si riescono a realizzare proprio per sposare al meglio tutte le applicazioni che ci vengono proposte dai nostri partner che sono installatori e risolvere problemi o dare un opportuno apporto a quello che sono le attività anche dell'end user. Quindi la videosorveglianza ancora di più sta diventando protagonista nel mondo della sicurezza. Grazie ad Aldo Punzo di Bettini